ma la palla deve sta ferma è giusto bravo no? la palla deve sta ferma è verde la palla deve sta ferma ma da tutto palla in movimento ah vabbè bravo è un po' intelligente è vabbè ma basta guardare se no che ha battuto è lui mi ha detto aiutami 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 stai 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 Grazie. Grazie. tra un minuto al recupero e non mi basta scriveremo riserva già un minuto time out